ciao a tutti da me e da pomertino molto bene allora oggi siamo qui con nuove baline da aprire come si può ben vedere allora ho azzardato un po usato un po e ho preso due scatole ok come di solito 34 questa volta qua due perché perché in te me ne mancano quattro esatta c'è una scelta un po azzardata solo due però proviamoci proviamoci vediamo che cosa c'è dentro e scopriamo questo dentro ovviamente ci sono anche le cose che mancano a martina quindi top 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 allora come vi dicevo prima me ne mancano quattro i personaggini siamo così vi faccio vedere la foto e bon questa è la situation questa è la situation quindi direi subito di cominciare con questa allora tiriamo un po indietro facciamoci spazio e la strategia di oggi non lo so capiamola la strategia di oggi è che metto tutte qua senza sapere cioè senza fare tic 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 finché questo veramente molto vediamo un po comunque mi avete detto che il robino di superman era molto raro e io non avevo la più pallidissima idea quindi grazie per avermelo detto ok allora sempre più plasticoso cominciamo con vediamo un po ancora 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 che uomo questo se lo sa io che martina quindi andrò nel gruppetto di pomettino sì ormai gruppetto in più è di pomettino qualcosa anche a lui siamo già partiti con un qualcosa mucio 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 in più ed eccola qua però molto molto carina ok quindi adesso andiamo con la seconda pallina questo mi sembra già un po più forse piangono che se pinguino min pinguino io è con calma perché qua allora aspettate che la foto diventa tutta nera poi non capisco più è tutto nero anche qua no questo è cat woman ok allora io ce l'ho ma martina no quindi molto bene abbiamo trovato cat woman cat woman ok va bene va bene cosa vi devo dire poi lo attaccherò qui ed eccola qui in e va qui per la signorina martina quindi seconda cosa fatta anche questo ok quindi adesso è qualcosa per me per favore molto plastico l'interia questo cos'è un omino io l'omino ce l'ho già però quindi mi sa che questa scatola non ci darà soddisfazioni mi sa proprio di no ma noi lo apriamo lo stesso ovviamente vediamo allora questa io ovviamente ce l'ho già ma martina no io un'altra volta l'ho chiamata come l'ho chiamata batwoman ma mi avete detto che invece batgirl e quindi e questa va per martina quindi tutte donnine tutte donnine in questa confezione molto bene ed eccola qua è andata molto molto di ciapetone alla signorina martina perfetto quindi la mia domanda è qualcosina per me in questa scatola troveremo scopriamolo allora mettiamo tutto dritto e apriamo la strategia è metterle qui questa strategia per il momento non è andata molto di ciapetone a me ma martina vediamo in questa scatola mescoliamo mescoliamo misamo non so cosa vuol dire e prendiamo allora qua molto molto plastico è molto molto plasticoso è molto molto plasticoso vediamo sì 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 ok allora capiamo questo a tre pezzi vediamo un po sul foglino che cosa ci dice eccolo qui quindi prima all'omino e poi il coso che tiene su il telefono molto bene o finalmente finalmente quindi così che carino e questo così ma davvero tiene sul telefono sì ma pensate ma pensate ok quindi o adesso siamo a meno 3 perfetto e questo lo mettiamo nel mio piccolo posto quando serve un tubo perfetto abbassiamo un pochino e continuiamo con la prossima balina questa balina sembra qualcosa di piatto di qualcosa di piatto ovviamente come ho fatto vedere prima me ne manca un piatto in un modo il piatto in un altro ok sbicciatino è verde ok e poi sono hai del macello sia io che la signorina martina quindi va nel gruppetto di pomettino ecco qui per il momento siamo a due pomettino due martina e uno io ma abbiamo ancora una pallina da aprire quindi incrociamo le dita questa cosa qua non si muove però già già così ne abbiamo trovato quindi cosa potrebbe porcazza bucazza porcazza la bucazza vediamo o a questa è personaggio di arley e sto guardando che martina questa non ce l'ha quindi finiamo con il gruppetto di martina che è andata molto di ciapetone a martina oggi molto bene allora montiamo il personaggino allora ecco ora qui è andata molto di ciapetone a martina pomettino due e io ho trovato shazam ovviamente adesso quando succede che ne mancano di meno ovviamente è più difficile però vabbè c'è nel senso va come deve andare oppure no ma io che ne so molto bene quindi 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 fatemi sapere un po' che cosa ne pensate dei miei ritrovamenti ok ok tu pomettino sei soddisfatto di questi ritrovamenti ecco molto bene pomettino intanto sbatto allora io vi ricordo instagram link amazon e patria un giorno dell'infobox per chi volesse supportare me e pomettino grazie grazie mille grazie mille a martina che abbonata mi raccomando fatemi sapere un po' quel cavolo che volete pomettino direi che è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao